Filippo Gattari, innanzitutto benvenuto a Campobasso. Come ti è sembrata la città, come ti è sembrato l'impianto che hai visitato oggi da neo-tesserato, ma in passato da giocatore contro il Campobasso? Grazie per il benvenuto, sono veramente felice di essere qua. Il campo già lo conoscevo perché sono venuto due volte e ho vinto qua. Spero di portare tanti successi e tante belle prestazioni qua a Campobasso e spero di fare un grandissimo campionato perché ci sono tutte le basi per poterlo fare. Campobasso ti ha portato bene da avversario, adesso vivrai la maglia rosso-blu da protagonista al centro della difesa, primo acquisto del Campobasso. È stata in un certo senso una soddisfazione, un punto di orgoglio per te questo oppure è nella normalità? No, sono veramente felice che sono stato il primo. Non ci ho pensato due volte perché con le persone che ci sono dietro e con questa ambizione e questo progetto veramente penso che ce ne siano pochi così i progetti in tutta Italia. Veramente un gruppo di persone ho conosciuto eccezionali e ci sono tutti i presupposti per fare bene e per me questo è sufficiente per dire sì a una proposta. Conoscevi già qualcuno all'interno della società, qualcuno dei dirigenti che facesse appunto da tramite tra te e il Campobasso oppure è stato un primo contatto questo che ci ha portato qua? Io conoscevo molto bene l'allenatore in seconda di Mr. Cappellacci perché ci ho giocato insieme, eravamo compagni di squadra, ora mi farà l'allenatore ma io sono stato suo compagno di squadra. E poi conoscevo degli allenatori quando questa proprietà non era qui a Campobasso ma era a Trivento e hanno speso parole bellissime. Sapevo che erano persone serie e mi hanno detto che ora qua hanno formato veramente qualcosa di eccezionale. Io ho sempre seguito un po' il calcio nei dintorni di casa mia perché abito a tre ore da qui e sono quindi abbastanza vicino e sapevo che qui c'era veramente un bel progetto e tutti quelli che sono passati di qua ne parlano benissimo nonostante siano andati via quindi qualcosa vorrà dire. Dicevi in conferenza stampa che preferisci le piazze calde per questo forse anche per questo sei stato quattro anni a Vigor la Mezzia anche da capitano sicuramente la scorsa stagione hai concluso in Lega Pro da capitano poi sei venuto qui. Anche questa è una piazza abbastanza calda? Sì sì lo sapevo già che era una piazza molto calda quando ho avuto la possibilità di giocarci contro l'avversario non ho trovato tantissima gente ma era un altro contesto sapevo che qua tirava una brutta area di contestazione quindi era sicuramente un momento diverso da quello attuale. so ora che ci sono tutti i presupposti so che l'anno scorso la squadra è stata seguita e io penso che se noi offriremo un bello spettacolo in campo sicuramente la città risponderà al presente.